Tezza, io sono Moritz, la vivi in Malmessa Malmessa dopo una notte da Leone Leggio un silenzio di tomba dopo la serata di ieri Però almeno siamo andati qua qua Sinistra abbiamo il dipinto Dipinto perché? Non c'era assolutamente lei Bello il dipinto Dopodiché invece c'è il torvigliata Chiavenna in coda E via, c'è una noia Serata più stupenda Sale la pressione E sale anche la strada C'è l'azzurro Eccoci alla pista di Bob Giornata leggera Giornata brutta? Brutto oggi? Brutto oggi? Brutto oggi è un'altra Brutto oggi è un'altra Grazie a tutti 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 Non arriviamo più Porca troia Un'ora e un quarto che camminiamo Non basta Non basta Un'ora e un'ora Ma questo è il fai, è solo un po' qui o non c'è? Fai, è un colpo Mi metti di dire La idea che si va Come ladri Fai, è un colpo Ah, qua, te lo passo su Ma quello lì è il menù Il viandetto La roba grossissima Eh già già Cugi ha le prese con le prugne secche Mamma Sai l'effetto che faranno le prugne secche Alla prossima Hai avuto problemi Alla prossima Alla prossima Sono qua Richiodato in questa grigia città Poi Chissà Prendo un volo su e Le si vedrà Sono qua Richiodato in questa grigia città Nella stanza siamo in due Se però stai sulle tue Io starò poi sulle mie Non streccando carri E allora Sesso 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 e dieta Sesso Sesso e dieta Sono qua Sono qua E chiodato in questa grigia città Poi Sesso è zelante E si accordano all'istante Allora Sesso 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 Svizzera con grattaschiera La roba grossissima Grattaschiera a telefono andata Ah no, questo è pera? No, no, pera qui Guarda che altro Grattata, grattata Comunque la parte grattata si vede Perché è pettinata E' dove arriva quella Fai che saluta la sua sorella E' il turno di questa qua Poi chissà Prendo un volo su web e si vedrà Sono qua E che ho dato in questa grigia città Già puntuali tutti insieme Stam posando nelle piazze Tra le fronte ormai stempiate Già si notano le chiazze Sono giovani per bene Della nuova borghesia Certo non eccezionali Ma poi non da butter via Le sbarbine già formose Già veloce Scarpe chiare Guardano con attenzione Che si vogliono sistemare E in quest'area un po' ruspante De modè e cortigiana Si consumano Prossimo treno Reggio in direzione Santo Moritz Partenza a tenor Orario 15 e 6 Seguente treno Reggio in direzione Tira Partenza a tenor Orario 15 e 48 Next Sono qua E che ho dato in questa grigia città Poi Chissà Prendo un volo su web Si vedrà E che ho dato in questa grigia città Setturna in tre Ho comportato anche pochi bagagli Poca roba per essere in tre No? Il necessario Per San Moritz Si parte E vi vi Eh si Vi invita Terminato Vi invita la cuccagna Milano Vai Milano 5 gennaio Quanti gradi Quanti gradi Per la tua onesta 18 e mezzo 18 e mezzo Vivi? Costume Costume Un gennaio anomalo Grazie